Mi chiamo Luna Rotella, ho 26 anni e dopo essermi laureata alla Facoltà di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali ho avuto una serie di esperienze nell'ambito dell'organizzazione di eventi e ho deciso quindi poi di conseguenza di approfondire questo ambito di studi frequentando il Master Progea. È stata un'esperienza molto interessante e formativa perché durante il percorso teorico ho avuto l'opportunità comunque di confrontarmi con professionisti del settore e che mi hanno dato gli strumenti per poi durante lo stage mettere in pratica tutto quello che avevo appreso durante appunto le lezioni. Ho avuto l'opportunità quindi appena finite le lezioni di iniziare a lavorare per esso la Read Exhibition, una multinazionale che organizza eventi fieristici, in particolar modo ho lavorato per Viscom, la fiera della comunicazione visiva. È stata anche questa un'esperienza indimenticabile perché ho appreso molto sia appunto in ambito comunque formativo e professionale e ho poi avuto anche la fortuna di conoscere dei colleghi che sono diventati anche delle persone che sono rimaste a me care. Quindi è stata un'esperienza completa diciamo. La borsa di studio è stata una grande soddisfazione, emozione, gioia e sono ancora emozionata per averla ricevuta, sono contentissima. È stata la conferma di tutto l'impegno che ho messo durante quest'anno sia durante appunto le lezioni che dopo. Penso che non vedo l'ora di tornare a casa perché tra poche ore è il compleanno di mio papà e glielo apporterò come regalo quindi mi sto emozionando troppo però. È una grande soddisfazione davvero.